È importante avere delle metriche per verificare quanto si sta spendendo, ma è anche importante ricordarsi che non siamo servomeccanismi, non abbiamo la possibilità quando ci si interfaccia con dei clienti e quindi con un aspetto emotivo e irrazionale come quello dell'acquisto non dobbiamo avere la pretesa di avere delle metriche che ci dicano esattamente come se sposto la levetta un pochino più a destra, un pochino più a sinistra, mi cambino gli equilibri e se mi cambieranno, né quando si vanno a verificare le metriche da adottare ci si può fermare magari a un periodo di misurazione che non sia un periodo più o meno lungo, perché non è detto che ciò che io faccio oggi non porti risultati l'anno prossimo, magari li porti tra due anni, tra cinque anni, tra dieci anni. Raccontavo oggi al mio amico Paolo che mi ha accompagnato in treno un episodio relativo proprio alla Swatch, la Swatch nel 1997 mi pare lanciò uno spot che si chiamava How Long Is A Swatch Minute, se non sbaglio, con una canzone molto bella di Mijur e allora io non mi comprai neanche un orologio, l'altro giorno ero in aeroporto davanti allo stand della Swatch e nella musica dell'aeroporto c'era questa canzone, ho collegato le due cose e l'ho comprato, ora probabilmente colui che ha fatto quella pubblicità ai tempi è stato misurato però su un tempo troppo breve per prendere il mio income.